Ciao a tutti ombrewers e appassionati! Oggi vedremo perché è importante preparare uno starter di lievito liquido, cosa serve e come calcolare le corrette quantità di acqua, estratto di malto e lievito. Nel video su lievito e fermentazione abbiamo visto le differenze principali tra i lieviti secchi e liquidi. Per molti stili di birra non ci sono lieviti secchi appositi, perché non tutti i ceppi sopravvivono al processo di disidratazione. Bisogna ripiegare su quelli più adattabili e sappiamo che non danno sempre risultati ottimali. Il lievito liquido in molti casi è la scelta migliore per ottenere una birra con un profilo di alto livello. Ma i lieviti liquidi sono molto delicati una volta confezionati, devono essere conservati bene al freddo e andrebbero utilizzati al più presto possibile, poiché hanno una breve scadenza che si traduce in una riduzione del numero di cellule attive presenti. Partendo da una confezione appena imbustata infatti, la casa dichiara 100 miliardi di cellule attive, che come dichiarato potrebbero essere sufficienti a fermentare 19 litri di mosto con una bassa densità, quindi sotto 1,50 a temperature da alta fermentazione. Ma come ho accennato, nel tempo avviene una riduzione delle cellule attive, proporzionale al tempo trascorso. Dopo un mese non avremo più 100 miliardi di cellule, ma il 20% in meno. A 3-4 mesi ne avremo meno della metà e a 5-6 mesi la confezione non è più utilizzabile, o meglio non è consigliabile farlo, quindi difficilmente ci troveremo una quantità di cellule sufficiente a fermentare i classici volumi da 23 litri. Una confezione entro il mese di produzione potrebbe essere sufficiente se facciamo un batch piccoli, di 10-12 litri ad esempio, sempre con densità iniziali basse e birre ad alta fermentazione. Bisogna dire che molti in passato, o anche adesso, inoculano una busta di lievito liquido anche per birre con densità più elevate o per volumi maggiori. E molti riferiranno che per loro esperienza il lievito ha fermentato senza problemi fino alla fine. Questo non lo metto in dubbio, il lievito può anche riuscire a moltiplicarsi e a completare la fermentazione, ma lo farà in condizioni di stress, poiché dovrà moltiplicarsi diverse volte, quindi produrrà esteri e sostanze aromatiche con maggiore intensità e potrebbe rilasciare troppe sostanze indesiderate. Può anche darsi che questi difetti non si evidenzino chiaramente sulla birra finita, ma vale la pena rischiare? Oppure il lievito potrebbe impiegare più tempo a iniziare la fermentazione, quindi potrebbe lasciare il mosto, che è molto delicato in questa fase, in balia di altri lieviti selvaggi e microrganismi che potenzialmente possono infettare la birra, se il lievito non inizia il suo lavoro nei tempi giusti. È anche vero che in alcuni casi si inoculano di proposito meno cellule di quelle consigliate proprio per far tirar fuori al lievito questo carattere, ma questo funziona nei birrifici che conoscono benissimo il lievito che utilizzano continuamente o che coltivano il proprio ceppo e lo conoscono da ogni punto di vista. In ambito casalingo, se state provando un ceppo di lievito per la prima volta, non penso sia l'ideale farlo. Un'altra opzione ovvia potrebbe essere quella di aumentare la quantità di lievito da inoculare, invece di una busta, due o tre. A conti fatti, in questo modo potremmo inoculare la corretta quantità di cellule, ma non è la scelta più conveniente, perché i lieviti liquidi sono già molto costosi. Rispetto a quelli secchi parliamo di 12-15 euro a bustina contro i 3-5 euro dei secchi, quindi triplicare la quantità significa spendere quasi 50 euro solo per il lievito. Per tutti questi motivi è consigliabile, se non indispensabile, preparare uno starter di lievito. Lo starter è un processo nel quale noi diamo la possibilità alle cellule di lievito attive presenti in busta di moltiplicarsi fino a raggiungere la quantità di cellule desiderata per fermentare il nostro batch. E lo facciamo semplicemente preparando una mini birra partendo da un mosto preparato con estratto di malto. Ovviamente non da un mosto preparato in all grain, perché non avrebbe senso. Per sapere che quantità di acqua ed estratto da utilizzare, possiamo affidarci a un semplice calcolatore, come questo che trovate online sul sito di Brewers Friends. Iniziamo impostando la densità iniziale del mosto che prepareremo. I litri finali. Quindi il pitching rate che vogliamo, cioè il tasso di inoculo, che indica la quantità di cellule di lievito per millilitro per ogni grado plato. I valori di riferimento sono di 0,75 per le comuni ale di bassa media densità iniziale, 1 o 1,25 per ale di densità media e alta, 1,50 per le lager, fino a 2 per le lager ad alta densità. I lieviti lager fermentano a temperature molto più basse, ma lo fanno più lentamente, per cui è necessario aumentare la quantità di cellule attive per portare al termine, nel migliore dei modi, una fermentazione. Indichiamo poi il tipo di lievito che abbiamo scelto, se secco o liquido, in questo caso mettiamo liquido, e specifichiamo 100 miliardi, cioè confezioni con 100 miliardi di cellule all'imbustamento, che è la quantità che trovate nei comuni Wiest e White Labs. Mettiamo una confezione, indichiamo la data di confezionamento, in questo modo il programma calcola quante cellule attive sono rimaste oggi in percentuale. Questa data non è indicata sulla confezione. In confezione troviamo quella di scadenza, ma avendo scadenza indicata di 6 mesi, basta calcolare a ritroso 6 mesi dalla scadenza e avremo rentativamente il giorno in cui è stato imbustato. Sotto nella tabella possiamo vedere che abbiamo in busta 79 miliardi di cellule attive. Il nostro mosto ne ha bisogno di 379, quindi ne mancano 297. Abbiamo la certezza che necessitiamo di uno starter di lievito. Riportiamo sotto il tasso di vitalità del nostro lievito, selezioniamo i litri di starter che vogliamo o possiamo gestire in base alle nostre attrezzature, e la densità del mosto per lo starter. La densità ideale dello starter va da 1,30 a 1,40. Poi scegliamo il metodo di crescita e areazione tra no areazione, agitazione manuale o con piastra agitatrice. Come vedete l'effetto cambia molto. Con la piastra agitatrice magnetica avremo una crescita di lievito notevolmente superiore agli altri metodi. Quindi è un attrezzo quasi indispensabile se vogliamo preparare nel migliore dei modi uno starter di lievito. In questo caso ci servirà uno starter da 2 litri con mosto preparato con 213 grammi di estratto di malto secco e potremo raggiungere così 377 miliardi di cellule attive. Se non possiamo fare uno starter da 2 litri possiamo impostarne uno da 1 litro, ma non basterà. Quindi possiamo calcolare un ulteriore passaggio di starter e un'altra ancora fino a raggiungere il numero di cellule che necessitiamo. Adesso prepariamone una insieme. Partiamo dal lievito. Abbiamo un weist con la classica confezione che contiene al suo interno una bustina con dei nutrimenti. Questa va identificata con la mano e schiacciata per rilasciare i nutrimenti. Poi la busta va agitata e la lasciamo a temperatura ambiente. Tra le 3 e 12 ore osserveremo che la busta inizierà a gonfiare. Questo non significa che il lievito si sta moltiplicando, ma semplicemente che si sta svegliando e sta incamerando i nutrimenti. Prepariamo il mosto con 213 grammi di estratto di malto secco che sciogliamo in 2 litri di acqua. Mettiamo a bollire per sterilizzarlo. 5 minuti sono sufficienti. Quindi dobbiamo raffreddarlo. Possiamo usare una bacinella con acqua fredda o ghiacciata che si riscalderà in poco tempo, quindi possiamo ripetere questo cambio di acqua anche 2-3 volte. Misuriamo la temperatura e quando siamo tra i 20 e i 28 gradi possiamo fermarci. L'ideale è raggiungere la temperatura di fermentazione del nostro lievito, ma è consigliabile rimanere comunque nel range più alto per favorire l'attività del lievito nel minor tempo. Nello starter infatti noi creiamo le migliori condizioni affinché il lievito si moltiplichi nel minor tempo e con la migliore efficienza. Considerate anche 3-4 gradi, sopra la temperatura che solitamente scegliete in fermentazione per quel lievito e adesso possiamo aprire la busta di lievito e trasferirla nel contenitore per lo starter. Possiamo anche aggiungere dei nutrimenti a parte se vogliamo. Se il nostro contenitore è piccolo, facciamo attenzione perché si formerà tanta schiuma. Possiamo aggiungere in questo caso dei tensi attivi se vogliamo bloccare la formazione della schiuma. Adesso dobbiamo dare allo starter una buona reazione continua, cosa che possiamo fare manualmente agitando il contenitore o con degli attrezzi da cucina oppure in modo più efficace con la piastra magnetica. Come abbiamo visto nel calcolatore, la piastra è la miglior scelta. Copriamo il contenitore con della carta stagnola che non chiude ermeticamente, permette l'ingresso di ossigeno ma blocca i microrganismi e gli insetti. Impostate una velocità tale da creare una buona reazione, un bel vortice visibile e lasciate areare per 48 ore. Teniamo lo starter sempre a temperatura ideale per il lievito e lontano dalla luce diretta. A temperatura più alta del normale e con questa reazione il lievito si moltiplicherà e produrrà molti esteri e aromi indesiderati, ma questi non finiranno nella nostra birra. L'obiettivo è proprio avere tante cellule da inoculare prima per non far faticare poi il lievito nel mosto della birra. Quindi non preoccupatevi se percepite sentori e aromi sgradevoli. In 48 ore il lievito avrà completato questo processo e inizierà a depositarsi sul fondo. Qui possiamo stoppare l'agitazione e metterlo in frigo per 24-48 ore per velocizzare la separazione tra la parte liquida e quella cremosa di lievito nel fondo. In questo modo sarà poi facile rimuovere la parte liquida in superficie e lasciare quella cremosa del fondo che andremo poi a inoculare. Il giorno della cotta possiamo toglierlo dal frigo per farlo tornare a temperatura ambiente e prima dell'inoculo possiamo togliere la parte più liquida e inoculare quella cremosa del fondo. Se il lievito non è particolarmente flocculante, quindi forma poco fondo e ne rimane molto in sospensione, potremo inoculare anche la metà inferiore insieme alla parte cremosa. Ricordiamoci ora di ossigenare bene il mosto perché il lievito liquido, anche se abbiamo preparato un buono starter, necessita di una certa quantità di ossigeno da incamerare nella sua parete cellulare. Ci sono diversi metodi per ossigenare a sufficienza il mosto. Dai travasi per caduta, alla reazione manuale con la classica paletta o con un trapano avvitatore, fino all'insufflaggio di ossigeno puro con pietre porose. Per arrivare agli 8 parti per milione di ossigeno consigliati, fate riferimento a questa tabella. Come potete intuire, per avere lo starter pronto bisognerà organizzarsi. Non è possibile prepararlo il giorno prima della cotta. Per seguire tutto il processo che avete visto, il lievito va preso 4-5 giorni prima, attiviamo la busta la mattina, la agitiamo e la sera prepariamo il mosto per lo starter. Inoculiamo la busta, iniziamo la reazione, due giorni dopo stoppiamo la piastra e lo spostiamo in frigo. Due giorni dopo sarà pronto per la cotta. Una volta in frigo è possibile conservarlo comunque anche per più tempo, fino a due settimane, ma oltre ve lo sconsiglio. Quindi se prepariamo lo starter e poi non possiamo più fare la cotta, non sarà un problema, potremo riorganizzarci un altro giorno. Per non correre rischi, dobbiamo organizzare bene anche la spedizione e l'utilizzo del lievito. Non è l'ideale ad esempio farlo viaggiare in piena estate. In questo caso sarà necessaria la confezione refrigerata, che però ha un costo extra e in ogni caso nei mesi più caldi potrebbe non essere sufficiente a farlo arrivare sano e vitale. Facciamo in modo inoltre che una volta ordinato il lievito liquido venga utilizzato nel minor tempo possibile. Non avrebbe senso ordinarlo per usarlo 3-4 mesi dopo, poiché ha una scadenza di 6 mesi e al momento dell'ordine non conosciamo la data di imbustamento finché non arriva a destinazione. Nel dubbio vi consiglio di comprare anche una busta di lievito secco il più adattabile alla birra che avete scelto. Nella peggiore dell'ipotesi che il lievito liquido non dovesse riuscire a fermentare o si bloccasse a metà, possiamo inoculare il lievito secco e cercare di rimediare alla fermentazione bloccata. Abbiamo visto perché è importante preparare uno starter con il lievito liquido, come seguire i calcoli per raggiungere il tasso di inoculo desiderato e quelle attrezzature servono. Allego nella descrizione se possono esservi utili le attrezzature che uso io e il calcolatore di Brewers Friends. Se vi sono rimasti dubbi o domande sull'argomento o c'è qualche passaggio del processo poco chiaro, scrivete sotto nei commenti. Io ho appena iniziato a usare i lieviti liquidi. Voi invece che esperienza avete con i lieviti liquidi e con gli starter? Per quali birre non potete farne a meno? E per quali stili li preferite ai ceppi di lieviti secchi? Ci tengo a conoscere la vostra opinione. Vi ringrazio per aver seguito il video fin qua, lasciate like e se non siete ancora iscritti vi invito a farlo. Per me il vostro supporto è di grande aiuto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti.